Avete mai pensato a quanto il colore possa influenzare il significato delle vostre foto? Volete creare uno stile fotografico unico sfruttando il potere dei colori? Se la risposta è sì, allora siete nel posto giusto! Ciao a tutti e bentornati sul canale! In questo video parleremo di uno degli aspetti più affascinanti della fotografia, il color grading. Alcuni di voi mi hanno chiesto di approfondire questo argomento, eccomi allora nel tentare l'ardua impresa di spiegarvi perché il color grading è così essenziale per portare le vostre immagini a un nuovo livello di espressività e significato. Cercherò di affrontare in poche parole la teoria del colore per i fotografi, anche se è un argomento vastissimo impossibile da coprire completamente in un singolo video, ma farò del mio meglio per darvi una panoramica generale e se vorrete in futuro approfondire sappiate che sto lavorando insieme a Luca ad un progetto più ampio che spero di poter rendere presto disponibile a tutti voi. Scegliere i giusti colori per valorizzare la propria fotografia significa usarli in modo intenzionale e metodico. Questo principio non vale solo per la fotografia ovviamente, ma si estende a tutte le discipline artistiche. Comprendere la teoria del colore è una competenza fondamentale per il nostro processo creativo. Inizieremo quindi parlando di alcuni concetti chiave per poi passare ad alcuni esempi pratici. Per prima cosa è fondamentale capire cosa sia il color grading e come si distingua da altri processi di correzione del colore. Un aspetto fondamentale da comprendere è la differenza tra color correction e color grading. Entrambi i processi si occupano della manipolazione dei colori, ma hanno obiettivi e metodi distinti. La color correction è il primo passo del processo e si concentra sull'ottimizzazione dell'immagine per renderla il più fedele possibile alla realtà. Questo include la regolazione del bilanciamento del bianco, l'equalizzazione dell'esposizione per garantire una distribuzione corretta dei toni nell'immagine e l'eliminazione delle luci troppo intense o delle ombre eccessivamente scure. L'obiettivo principale qui è ottenere una base neutra e realistica su cui poi lavorare. Della correzione colore ne abbiamo parlato ampiamente attraverso vari video che potete recuperare tranquillamente all'interno del canale. Vi lascio qualche suggerimento in descrizione, ma vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi più nessun contenuto. Il color grading invece è la fase successiva del processo e si focalizza sull'aspetto creativo dell'immagine. Qui l'arte si mescola con la tecnica, si tratta di dare personalità, emozione e stile all'immagine, applicando modifiche specifiche ai colori per raggiungere un certo effetto visivo. Questo processo consente di creare atmosfere, accentuare emozioni e comunicare storie attraverso l'uso del colore. È il momento in cui la nostra fotografia si trasforma in qualcosa di più di una comune immagine, riflettendo il nostro stile unico. Quindi, mentre la color correction stabilisce una base neutra e corretta, il color grading aggiunge l'elemento creativo. Grazie ad esso diamo personalità e stile portando la fotografia a un livello superiore di espressione visiva, trasmettendo emozioni specifiche. Entrambi i processi sono fondamentali per ottenere risultati fotografici di alta qualità e per garantire che la nostra narrazione visiva sia completa e coinvolgente. Capite quanto sia essenziale gestire i colori nelle vostre foto? Iniziamo con una rapida occhiata ai fondamenti della teoria del colore. Prendiamo la ruota dei colori, ve la ricordate dai tempi della scuola? Questa ruota rappresenta tutti i colori principali. La ruota dei colori è composta da una serie di colori disposti in cerchio. Al centro della ruota si trova il colore principale, di solito il rosso, dal quale si irradiano i colori dell'arcobaleno, arancione, giallo, verde, azzurro e viola. Questi colori sono chiamati colori primari. Tra di essi ci sono anche i colori secondari ottenuti dalla miscelazione di due colori primari adiacenti, ad esempio il giallo e il rosso creano l'arancione. La ruota dei colori può essere utile per comprendere le relazioni tra i colori e creare armonie visive nelle fotografie o nell'arte in generale. Oggi ci concentreremo su alcune combinazioni del colore fondamentali. Partiamo dai colori complementari. Questa armonia si basa sull'uso di colori opposti sulla ruota dei colori. Ad esempio il rosso e il verde, il blu e l'arancione. Questa combinazione crea un forte contrasto visivo. Poi ci sono i colori analoghi, in questo caso si scelgono colori vicini sulla ruota dei colori. Ad esempio il blu, l'azzurro e il verde. Questa armonia crea una sensazione di coesione e tranquillità. Le triade di colori invece sono tre colori equidistanti sulla ruota dei colori, ad esempio il rosso, il blu e il giallo. Questa combinazione è vivace ed equilibrata. Nell'armonia split complementare si seleziona un colore principale e due colori opposti ai suoi colori complementari, ad esempio il rosso, il blu verde e il giallo verde. Questo crea un'armonia più sottile rispetto all'armonia complementare. E infine l'armonia monocromatica. Come suggerisce il nome si utilizzano varie tonalità di un singolo colore, ad esempio sfumature diverse di arancione. Questo crea un aspetto molto uniforme e rilassante. Scegliere l'armonia cromatica giusta può influenzare notevolmente il tono espressivo e il significato di un'immagine. Ma perché è così importante comprendere tutto ciò? La risposta sta nella psicologia del colore. La psicologia del colore è stata oggetto di ampi studi per molto tempo, quindi molte di queste idee sono ben consolidate e dimostrate. I colori trasmettono significati emotivi e simbolici che influenzano come le persone interpretano e reagiscono alle vostre immagini. Questi significati sono oggettivi, anche se possono variare in modo soggettivo in base al contesto culturale e personale ovviamente. Ad esempio il rosso può esprimere passione e amore, mentre il blu suggerisce calma e fiducia. Molto banalmente possiamo suddividere i colori in due categorie principali, caldi e freddi. I colori caldi come il rosso, l'arancione e il giallo evocano sensazioni di calore, passione ed energia. Sono spesso associate a emozioni intense. D'altra parte i colori freddi come il blu, il verde e il viola trasmettono una sensazione di freschezza, tranquillità e calma. Sono spesso utilizzati per creare atmosfere rilassanti. Combinare sapientemente colori caldi e freddi può influenzare notevolmente il tono e la percezione in un'immagine. Se vi interessa approfondire questo aspetto vi consiglio il libro Cromorama di Riccardo Falcinelli, trovate la mia recensione sul canale, link in alto e in descrizione. L'uso efficace e selettivo di questi colori nella nostra fotografia può davvero migliorare il significato delle nostre immagini e aiutarci a raccontare le storie che vogliamo comunicare. Quindi il color grading non è solo un passaggio opzionale nella post produzione, ma capirete ora che abbiamo un potente strumento creativo nelle nostre mani. Unendo la teoria del colore alla psicologia del colore possiamo migliorare significatamente il nostro lavoro fotografico. Ma come si applicano in concreto queste teorie alla fotografia? Semplice, si inizia pensando alle immagini già in modo diverso, partendo proprio dai colori che la compongono. Nella fotografia l'applicazione delle teorie del colore inizia proprio con una diversa prospettiva sulla composizione delle immagini. Ad esempio se vedete un paesaggio dominato da verdi pensate al rosso come colore complementare per creare equilibrio, oppure se notate una serie di tonalità di blu cercate un elemento arancione per creare contrasto. Nella fase di post produzione invece possiamo utilizzare diversi strumenti disponibili in qualsiasi programma di fotoritocco professionale che ci consentono di manipolare i colori. Ecco però nel mondo della fotografia i colori sono solo l'inizio, si parla anche di toni, saturazione, luminosità e so che può sembrare un po' complicato, ma tranquilli cercherò di semplificare i concetti al massimo. Il tono rappresenta il colore in sé, è ciò che solitamente intendiamo quando diciamo rosso, verde, blu e nel contesto fotografico si può regolare il tono per modificare la resa cromatica di un'immagine. Ad esempio, possiamo trasformare un blu cielo in un vivace azzurro o un verde prato in un verde smeraldo. La saturazione invece riguarda l'intensità del colore. Maggiore la saturazione più il colore è vibrante e accattivante, riducendo la saturazione si può ottenere un effetto più smorzato, ideale per creare atmosfere più tranquille o retro. La luminosità determina quanto un colore appare chiaro o scuro. Si può usare questa regolazione per controllare i dettagli e i contrasti nelle nostre foto. Ad esempio, aumentando la luminosità di un colore, renderemo quell'area più luminosa, mentre diminuendola otterremo un effetto più scuro. Quindi, nel mondo della fotografia, il modello HSL è un potente strumento per manipolare i colori in modo selettivo e preciso, consentendo di creare immagini che catturano esattamente l'atmosfera e l'emozione che si desidera comunicare. È come avere una tavolozza di controllo per dipingere con la luce ed il colore. Oltre all'HSL, la gradazione colore è un altro strumento prezioso nel nostro arsenale. Questo pannello permette di regolare l'aggiunta di colore in diverse aree dell'immagine, le alte luci, i mezzi toni e le ombre. Nelle alte luci possiamo aggiungere o sottrarre un colore, ad esempio se vogliamo enfatizzare il calore di una luce dorata, possiamo aumentare il colore caldo nelle alte luci. Al contrario, se vogliamo creare un'atmosfera più fredda, possiamo sottrarre il colore caldo da quest'area. Nei mezzi toni possiamo regolare il colore predominante nell'immagine. Questa è un'area chiave per influenzare l'aspetto generale della foto, possiamo aumentare o diminuire l'intensità del colore dominante in questa zona per ottenere l'effetto desiderato. Nelle ombre invece abbiamo il controllo del colore delle parti più scure dell'immagine. Questa è un'area in cui possiamo regolare il colore senza influenzare eccessivamente le altre parti dell'immagine. È particolarmente utile per correggere tonalità indesiderate nelle ombre. La gradazione colori in Lightroom è un potente strumento per affinare i colori e creare immagini davvero sorprendenti. Non dimentichiamoci però dell'opzione di calibrazione. Quest'opzione ci consente di regolare il colore per le tonalità principali di rosso, verde e blu. Ad esempio potremmo esaltare i rossi per accentuare una tonalità calda ed avvolgente, oppure regolare i verdi per ottenere un aspetto più fresco e vivido. Le opzioni sono limitate solo dalla nostra creatività e visione artistica. Fare color grading però non significa limitarsi all'uso dei soli strumenti dedicati. Esistono infatti molteplici approcci per personalizzare il nostro editing e le opzioni creative sono praticamente infinite. Non possiamo purtroppo esplorarli tutti in questo video, ma posso darvi una breve panoramica. Le curve ad esempio offrono una precisione eccezionale nel modellare colore e luminosità. L'utilizzo poi dei metodi di fusione in Photoshop o la creazione di maschere e l'applicazione di regolazioni attraverso i livelli. Tutte queste opzioni consentono di effettuare modifiche selettive, aprendo la strada a stili di color grading personalizzati e dettagliati. Se applicati con competenza, questi strumenti possono portare le nostre immagini a un livello ancora superiore in termini di espressione e creatività. Vediamo alcune linee guida per un color grading efficace. Nel processo di color grading il nostro obiettivo principale è creare uno stile visivo che supporti e rafforzi la narrativa o l'atmosfera che desideriamo trasmettere. Il colore è un potente strumento di espressione artistica, quindi è bene conoscere la storia che si vuole raccontare prima di fare qualsiasi altra scelta creativa. L'ho già detto ma lo ripeto, iniziate sempre con una base solida, assicuratevi che l'esposizione e il bilanciamento del bianchi siano corretti, è più facile regolare i colori su un'immagine ben bilanciata. Ricordate anche che ogni immagine ha dei punti di riferimento cromatici, questi possono essere oggetti bianchi, grigi o toni della pelle umana. È bene mantenere questi punti di riferimento stabili mentre si apportano modifiche ai colori. Per esempio supponiamo di avere una bellissima immagine di una sposa con un abito bianco candido. Il colore dell'abito è un punto di riferimento cromatico essenziale in questo tipo di foto. Durante il processo di color grading però potremmo voler aggiungere una leggera tonalità calda all'intera immagine per creare un'atmosfera romantica. Bene, in questo caso dovremo fare attenzione a mantenere il colore dell'abito bianco costante. Modificando solo la tonalità nell'area circostante garantiamo che l'abito rimanga fedele al suo colore originale. Questo assicura che il soggetto principale, la sposa, resti in primo piano e che il cambiamento cromatico abbia un impatto positivo solo sull'atmosfera senza alterare elementi chiave dell'immagine. La sposa appare ancora incantevole nel suo abito bianco, ma l'intera scena ha ora una nota romantica che migliora la storia visiva dell'immagine. Questo ci porta ad un altro punto fondamentale, essere selettivi nell'approccio. Applicate le correzioni solo alle parti dell'immagine che richiedono modifiche. Cercate di mantenere un'immagine naturale e coerente e realistica. E se lavorate su più foto dello stesso progetto cercate di mantenere uno stile uniforme che armonizzi le foto tra loro. Vi faccio un esempio pratico dell'importanza del color grading nella mia professione di fotografa di matrimoni. Mantenere coerenza del color grading tra tutte le foto del matrimonio aiuta anche a creare un album fotografico omogeneo e coinvolgente. Gli sposi possono rivivere quei momenti speciali con immagini che si fondono perfettamente tra loro. Un color grading riconoscibile e unico diventa poi un marchio di fabbrica dello studio fotografico, attirando futuri clienti che cercano uno stile specifico che solo voi potete offrire. L'arte del color grading però è anche l'arte dell'esplorazione. Potete sperimentare diverse combinazioni cromatiche e scoprire quale stile funziona meglio per il vostro progetto. Non abbiate paura di provare nuove strade, di sbagliare e ricominciare da capo. Saper fare un buon color grading è un'abilità che si perfeziona col tempo e con la pratica. Studiate, sperimentate e affinate le vostre competenze nel corso del tempo. Siete pronti per mettere in pratica quanto avete imparato? Ricordate, la pratica costante è la chiave per affinare le vostre abilità, di qualsiasi tipo. Avete capito che il color grading non si limita a qualche regolazione su Photoshop, il segreto è iniziare a pensare ai colori prima ancora di premere il pulsante di scatto? Ecco una sfida per voi allora, trascorrete una settimana dedicandovi a catturare un colore specifico. Fate 10 foto al giorno di oggetti o scene in cui predomina quel colore. Questo esercizio vi aiuterà a pensare in modo creativo e sviluppare un occhio per le combinazioni cromatiche. Potete trovare questo esercizio anche nel libro di Fontana, Fotografia creativa, nel quale ho parlato in un mio video precedente, ve lo lascio in alto e in descrizione. Naturalmente la post produzione è parte integrante del processo. Dopo aver eseguito la correzione dei colori, provate a dare ulteriori sfumature alle foto aggiungendo colore alle alte luci, alle ombre e alle tonalità medie. Seguite le regole della teoria dei colori e sfruttate la psicologia del colore per comunicare un messaggio specifico. Mettetevi alla prova! Spero che questo video abbia acceso la vostra curiosità verso l'approfondimento dei colori in fotografia. Ricordate, non esiste una strada unica per il successo. Sperimentate, giocate con i colori e scoprite il vostro stile unico. Grazie per essere stati qui con me e ora uscite e create qualcosa di straordinario con il potere del colore! Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video! Ciao! Grazie per la visione!